Cos'è questo movimento del FIRE? Come posso capire di quanto capitale ho bisogno, ma soprattutto che strategia posso utilizzare? Le risposte a tutte queste domande e a molte altre te le do io in questo video. Troverai anche un paio di tool utili con cui testare il portafoglio che avevi in mente per seguire il tuo sogno di essere libero finanziariamente. Andiamo! Oggi esploreremo un argomento entusiasmante che ha catturato la nostra attenzione da moltissimo tempo. Il movimento finanziario noto come FIRE, ovvero Financial Independence Retire Early. È un concetto veramente affascinante che ha ispirato molte persone a ripensare a quella che è la loro gestione del denaro e alla pensione in un modo del tutto nuovo. Siamo tutti a conoscenza della complicata situazione del sistema pensionistico italiano e di come più passa il tempo e più la nostra età pensionabile si allunga. Bene, potrebbe essere il giusto momento per abbracciare un movimento così semplice ma allo stesso tempo moderno che riesca a migliorare il nostro futuro. Ma esattamente che cos'è il movimento FIRE? I principi fondamentali di questo movimento si concentrano sul non attendere di diventare vecchi per smettere di lavorare. Invece di andare in pensione a 65-70 anni, raggiungere il proprio FIRE permette alle persone di ritirarsi per vivere al meglio le proprie giornate. Ma attenzione, seguire questi principi non implica necessariamente che si debba lasciare il proprio lavoro. Infatti, se ti piace quello che fai, puoi continuare a farlo, ma una volta raggiunto l'indipendenza finanziaria, semplicemente non hai l'obbligo di farlo. E questa è una differenza chiave. La comunità FIRE, infatti, si concentra più sull'indipendenza finanziaria rispetto alla parte del pensionamento anticipato. Nessuno si ritira dal proprio lavoro in maniera anticipata solo per stare a non fare niente tutto il giorno. Se stai lasciando il lavoro, per esempio, a 40-50 anni, hai tantissima energia ancora per fare altre cose. Una definizione comune per dire guarda, ho raggiunto il mio FIRE è quando il tuo patrimonio netto equivale a 25 volte le tue spese annuali. In altre parole, se le tue spese annuali sono di circa 24.000 euro, sei considerato finanziariamente indipendente se hai un patrimonio netto di 600.000 euro. Questo perché una volta raggiunto a quella cifra, il tuo patrimonio investito genera abbastanza reddito passivo per coprire le spese del tuo stile di vita. Esistono comunque diversi tipi di FIRE che variano a seconda del proprio obiettivo e del proprio stile di vita. Ad esempio, uno dei vari sottotipi di FIRE è lo stile di vita FAT FIRE. Questo è quello che ti permette di vivere nelle zone più costose del mondo e di godersi appieno il pensionamento anticipato, quindi non fare nulla e stare prettamente in vacanza. Poi c'è lo stile di vita LINFIRE, ovvero vivere con il minimo indispensabile per godersi la propria libertà. Non c'è assolutamente niente di sbagliato in questo, purché la persona non sia costantemente stressata per le questioni finanziarie. Infine c'è lo stile di vita che, onestamente, preferiamo, ovvero il barista FIRE, che è un ibrido tra il FAT e il LIN. La persona che abbraccia questo stile sceglie di integrare il proprio reddito con un lavoro part-time che lo appassiona con poche responsabilità e pressioni che gli permettono di guadagnare un extra per sostenere alcune spese fisse del suo stile di vita. E la classica domanda che ci viene fatta è per chi è il FIRE? Questo movimento è per tutti, anche se non è facile arrivare alla meta. Sebbene sia molto più facile raggiungere il FIRE con un reddito elevato, questo movimento riguarda soprattutto lo sviluppo di una mentalità finanziaria solida attraverso un risparmio aggressivo al di sotto delle proprie possibilità nei primi anni. Allora, come si determina quanto ho bisogno per vivere di rendita? È sufficiente prendere le tue spese annuali e dividerle per il cosiddetto tasso di prelievo sicuro, che è del 4%. Esistono inoltre diversi calcolatori che ci permettono di capire qual è il nostro obiettivo target e altri che ci riescono a simulare la possibilità di successo di questa nostra strategia di pensionamento. Partiamo dal calcolo nudo e crudo. Premetto che quando parliamo di finanza personale e quindi di obiettivi strettamente personali, è difficile trovare valori universali. Per questo utilizzeremo una situazione fittizia, i numeri iniziali cambiateli a vostro piacimento per rispecchiare la vostra situazione. Per il nostro esempio prendiamo Marco. Marco è un giovane di 25 anni che ha come obiettivo raggiungere un costfire a 55 anni. L'obiettivo di Marco è quello di prelevare dai propri investimenti circa 24.000 euro all'anno che si aggiusteranno per l'inflazione. Parliamo quindi di 2.000 euro al mese per vivere. Secondo la regola del 4%, Marco dovrebbe raggiungere un portafoglio di investimento di circa 812.500 euro circa con una tassazione del 26% per raggiungere il suo obiettivo. Ora andiamo ad inserire tutti questi dati all'interno di diversi calcolatori. Per quanto riguarda questo si tratta del calcolatore dell'interesse composto, quindi ci fa capire quanto effettivamente serve a Marco per arrivare al suo target di 812.000 euro. Allora Marco a 25 anni non ha nulla investito, quindi inseriamo 0. Per quanto riguarda il contributo mensile riesce a permettersi di investire 700 euro mensilmente all'interno di quello che è la sua strategia. Per il periodo di 30 anni, che sarebbe appunto arrivare ai 55, che è il suo piano di ritiro, per quanto riguarda il ritorno sull'investimento abbiamo inserito un 7%. Ci siamo voluti tenere nella media. Ovvio che durante questo periodo in realtà i rendimenti possono essere superiori o inferiori. Questi dati ci dicono che in 30 anni Marco avrebbe 793.470 euro come valore del proprio portafoglio e qui ci permette di vedere la crescita e il potere dell'interesse composto. Utilizzando questo secondo tool andiamo a validare innanzitutto quella che è l'idea della contribuzione mensile di Marco per arrivare appunto a 55 anni con un portafoglio che gli permetta di ritirarsi. Quindi inseriamo 25 anni come sua età attuale. L'età di ritiro 55, quello che è il suo stipendio 30.000 euro con quello che è l'annual spending quindi ovvero le spese annuali che Marco sta sostenendo. Abbiamo effettuato questo calcolo prendendo i 700 euro che lui investe mensilmente, li abbiamo moltiplicati per 12 e li abbiamo sottratti ai 30.000 euro di stipendio. Ci rimane quanto Marco sta spendendo attualmente. Poi a 55 anni sappiamo che lui ha bisogno e avrà bisogno di 24.000 euro per vivere. Infine questo tool ci permette anche di inserire quella che è l'età teorica in cui questo piano dovrebbe terminare e abbiamo voluto utilizzare gli 85 anni. Non guardate la location perché potrebbe essere diversa, più diversificata e sicuramente meno volatile. Abbiamo deciso comunque di mettere un 100% e aggiustare il ritorno al 7% per non andare a complicare troppo i calcoli. Con un tasso di prelievo sicuro del 4%, un'inflazione del 2% e soprattutto una crescita di quello che è il proprio income del 2% quindi aggiustato all'inflazione, anche questo tool ci riporta che 600.000 euro è l'importo necessario per Marco per raggiungere il proprio fire. Questo grafico ci mostra come Marco negli anni riesca ad avvicinarsi sempre di più al proprio target e poi nel momento in cui tocca i 55 e quindi decide di ritirarsi questi continuano a lavorare per lui aumentando anche il valore del portafoglio. In caso i 700 euro mensili di investimento non fossero stati necessari questa linea non sarebbe stata così esponenziale e soprattutto sarebbe ritornata verso lo zero. Vi faccio vedere un esempio. Inserendo una spesa di 27.000 euro quindi stiamo parlando che annualmente Marco riuscirebbe solo ad investire 3.000 euro Marco non si avvicinerebbe mai a quello che è il suo target e anzi nel momento in cui smette di lavorare ecco lì che il suo patrimonio inizia a scendere verso lo zero addirittura per poi rimanere senza niente e indebitato. Con questo ultimo tool invece che noi lo riteniamo il più importante ci permette di validare non solo il patrimonio necessario per raggiungere il proprio fire ma anche la strategia che si sta attuando durante la sua creazione e soprattutto durante la fase di pensionamento ovvero quella più importante. L'obiettivo della nostra strategia deve essere di non far deteriorare troppo il nostro patrimonio cercando di prendere meno rischi possibili. Per quanto riguarda il piano di pensionamento inseriamo come sempre 30 anni quindi dai 55 agli 85. Il valore del portafoglio è di 600.000 euro e come strategia andiamo ad utilizzare un'allocazione classica del 60 40 60 per cento in azioni 40 per cento in obbligazioni con un ribilanciamento annuale. In questa parte andiamo ad inserire invece la spesa annuale appunto di 24.000 euro. Il tutto aggiustato per l'inflazione. Andiamo a vedere. Perfetto su 123 simulazioni il 96 per cento delle volte Marco sarebbe arrivato all'età target con un patrimonio positivo e quindi la strategia è risultato un successo. Addirittura nel 37 per cento delle simulazioni il portafoglio ha superato il 100 per cento di quello che era il suo valore iniziale mentre del 13 per cento aveva un valore inferiore del 50 per cento rispetto al valore iniziale. Queste 123 simulazioni hanno riportato un valore medio del portafoglio di un milione e cento quindi non solo non c'è stato un deterioramento anzi c'è stata una duplicazione di quello che era il patrimonio effettivo di Marco. La simulazione più grande ha toccato i 3 milioni 361 mila euro con solo il 3.25 per cento delle simulazioni che ha toccato i 0 euro. Quello che vedete in questo grafico è la distribuzione ad istogramma delle simulazioni effettuate e qui possiamo vedere come le spese di Marco non si sono dovute adattare nel tempo ma sono potute rimanere uguali a quelle che era il suo stile di vita programmato dall'inizio della strategia. In questi ultimi anni il concetto di FIRE è diventato un topic super virale ma è importante sottolineare che l'obiettivo principale di questo movimento è di vivere la tua vita secondo i tuoi termini e grazie al cuscino finanziario fornito dai tuoi investimenti. Se vuoi lasciare il tuo lavoro per uno remoto puoi farlo, se vuoi dare il via ad un tuo progetto personale puoi farlo, questa è la bellezza dello stile di vita FIRE. E tu cosa ne pensi? Scrivilo pure nei commenti, vediamo che cosa ne esce fuori. Sicuramente ci sarà qualcuno che vedrà questo obiettivo come utopico, altri invece che hanno già intrapreso la via ed altri che lo hanno raggiunto. Se sei arrivato fino a qui e non hai ancora messo mi piace al video ti invito a farlo e iscriviti così eviti di incontrarci solo per caso visto che l'80% delle persone che vede i nostri video non si è ancora iscritto. Ti ringraziamo per averci seguito e keep investing!